Abbiamo incontrato il dottor Luigi La Terza, candidato al Consiglio regionale pugliese con la Lega a sostegno di Raffaele Fitto, presidente. Abbiamo così analizzato varie tematiche, varie competenze appunto di ambito regionale e ora è il momento dell'appello al voto. Perché votare Luigi La Terza? Perché scrivere questo nome sulla scheda? Innanzitutto votare Luigi La Terza per avere l'idea già di cambiare il governo della regione Puglia, quindi votare innanzitutto il centrodestra. Nell'ambito del centrodestra votare la Lega e votare Luigi La Terza perché sono una persona da un punto di vista morale specchiata, quindi con nessuno scheletro nell'armadio. Ho una grande esperienza perché faccio politica dal 1997 e ho svolto diversi ruoli istituzionali. E poi perché man mano che il tempo è passato ho acquisito una voglia e un entusiasmo maggiore e la consapevolezza di dover fare qualcosa per migliorare la vita di noi tarantini. Per Tarantini intendo l'intera provincia di Taranto che tanto è stata bistrattata negli ultimi anni dalla regione Puglia. Grazie.